Scusa possiamo farti qualche domanda? Scusa se ti interrompiamo, stai leggendo un libro di filosofia, tu ti chiami? Fabio Fabio, stai leggendo un libro abbastanza impegnativo, no? Storia della filosofia occidentale di Bertrarras e tu ti piace la filosofia? Rimaniamo pure qui Sì, mi è sempre piaciuta da quando facevo il liceo e ora che ho tempo libero non approfitto per... Inquadriamo un attimo regia dove ci troviamo, esattamente di fronte a Palazzo Chigi, galleria Alberto Sordi sta piovendo, ci siamo riparati nella galleria Alberto Sordi, siamo qui con Fabio Fabio, ecco allora ritorniamo con la regia, Fabio perché anche a me piace parecchio la filosofia e quindi tu hai fatto il liceo e stai ritornando alla filosofia, ma che fai studi università? No, no, adesso non studio Che fai, lavori, disoccupato? No, sì, sono disoccupato Cosa sai fare? Cosa so fare? Cioè, tu che liceo hai fatto? Ho fatto liceo classico Liceo classico, quindi insomma, una educazione umanistica e io posso sedermi qui? Sì, prego, prego All'epoca ero troppo giovane, la filosofia mi interessava ma non la capivo abbastanza e adesso che sento di essere più maturo Quanti anni hai? 35 Mi sono scordato un'altra volta il nome, sono un po' d'Alzheimer Fabio Fabio, ecco Allora Fabio E niente, quindi mi interessava riprendere la filosofia per cercare di capirci un po' più Quale filosofo ti ha più intricato fino adesso? Ma in particolare quelli dell'antica Grecia, proprio i primi filosofi Quindi Socrate, Platone, Aristotele Sì, ma anche in precedenza quelli che parlavano proprio di archè, della divinità in quanto I presocratici diciamo, no? Sì, l'acqua, tutte le fonti della vita Eraclito da Efeso Tutte le fonti della vita Quindi l'aria, l'acqua, il fuoco Esatto Stai ritornando alle origini Qui ci passano delle, scusate, io reggio mi azzardo, ci passano delle gambe diciamo E ci distraiamo parlando da Eraclito Infatti io mi ero chiuso nel libro Ma è una scusa questa di leggere? No, no, mi ero chiuso nel libro perché sennò non avrei, esatto, non mi sarei mai potuto concentrare Inquadriamo questo ottimo tomo Bertrand Russell, che è americano, è vero? Sì È uno dei più grandi Aspetta, guarda, mi sa che è È inglese Cambridge Mi sa che è inglese Però no, Stati Uniti, visse negli Stati Uniti Sì, visse negli Stati Uniti Dopo, durante la guerra Però fu allontanato prima Ah, va bene, va bene Comunque ha vissuto anche in America Studiò a Cambridge dove fu allontanato per le sue dei pacifiste Dal 38 al 44 visse negli Stati Uniti Stati Uniti, va bene, dai Allora, quindi, Bertrand Russell ci racconta la filosofia Fabio, tu, quindi, progetti nel tuo futuro? Guarda, vedendo il libro che sto leggendo puoi capire che i miei progetti non sono così specifici, no? Molto, diciamo Esatto Non sono consueti Esatto Sto andando tu sulla filosofia generale Per cui devo cercare di capire qualcosa della vita, no? Esatto Anche perché questa vita e questo sistema in particolar modo Non mi, diciamo, non mi appassiona Non ti appassiona Quindi ti rifugi nella filosofia Mi rifugio, eh, sì No, più che altro per cercare di ritrovare quello che mi piaceva quando ero più giovane Beh, semplicemente questo Cercare di capirlo meglio, di ristudiarlo Sotto un altro punto di vista più maturo, no? Beh, certo, sicuramente Come diceva Egel Sì, la dialettica, no? Le cose si studiano a cicli sempre superiori, no? Certo, certo Va bene Bisogna sempre migliorarsi Certo Allora Fabio, mi sono ricordato pure il nome Hai visto? Beh, dopo cinque volte Allora io mi alzo perché io ho la sciatica, eh Dopo un po' non riesco a stare in questa posizione Grande, ti ringraziamo Inquadriamo ancora Russell Che è tra noi Ciao, grazie ancora Ciao, grazie a voi